Volevo dedicare questo video a tutte quelle persone che hanno deciso di rompere e distruggere il pianoforte nella stazione centrale di Napoli. Non un semplice pianoforte, secondo me, perché a volte a rendere migliore la stazione in una città importante come Napoli, secondo me era un simbolo, un simbolo di crescita mentale, di cultura, di progresso, tutti i valori in cui io credo molto e che purtroppo pian piano vengono a mancare sempre di più. Voi lo sapete che cosa siete? Siete solo delle grandissime ladrine, perché io vi ho sempre difeso e a questo punto voi parlate di Napoli, ma a questo punto Napoli è soltanto una vittima, è una vittima di questa minoranza di gente che è talmente inutile e ignorante che non ha neanche senso parlarne e non dovrebbe dar peso, invece da molto peso perché, anche se sono pochi, ma fanno delle stronzate talmente clamorose che ci mettono, poi ci fanno cadere le braccia. Che senso ha distruggere un pianoforte così? Non ha senso. Io vi ho sempre difeso, ma da oggi in poi difenderò solo la città. Lo sapete cosa hanno detto quando si è saputo questa cosa del pianoforte nella stazione. Chissà quanto dura a Napoli, chissà quanto dura. Io mi sono battuto e ho detto ma che state dicendo? A Napoli dura perché la gente lo tutelerà. Bella figura in merda. Che stiamo facendo sulle figure in merda? Poi ce la prendiamo con Giretti, con gli altri e quello fanno bene. Se siamo noi i primi a non difendere la nostra città e a spalare merda sulla nostra città, ma perché lo dovrebbero fare gli altri? Ma che tenete in capa? L'amianto? Voi non sapete manco cos'è l'amianto. Voi tenete proprio vieni che il percoco ancora. Tenete proprio il brole purpa. Non siete nessuno. Facete proprio schifo. Arangate monnezze.